Una sconfitta che fa particolarmente male, che dispiace, molto diversa da tutte e due le partite perse in precedenza. A mio giudizio la squadra ha preparato molto bene la partita, l'ha affrontata bene, ha gestito bene il campo per larghi tratti, fino ad arrivare all'episodio del vantaggio del Torino, del rigore del vantaggio del Torino, però anche dopo, per dieci minuti, per un quarto d'ora, comunque la squadra è riuscita a fare quello che ci diciamo di fare. Il torto vero è quello di non riuscire a fare gol. Abbiamo gestito male gli episodi, sia in fase offensiva che in fase difensiva, che poi hanno determinato il risultato finale della partita.